Ecco, ci siamo, concentrati, velocità, sono pura velocità, un vincitore, 42 perdenti, i perdenti ve li mangio a colazione, colazione, forse hai dovuto fare colazione, allora mi sentirei meglio, no 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 no, resta concentrato, velocità, sono pura velocità, elegante come una merdina, scattante come un go-kart, boom 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 boom, ehi sei da? Sei pronto? Oh sì ragazzi, Saetta è pronto, è così, è così, così comincia l'ultimo episodio di sabato, ore 23.25, con noi l'ultimo super ospite, Saetta McQueen, è il flaco, Saetta McQueen, Sircomilla, tutto, tranne il nome mio, raga, buonasera, ci siamo, siamo arrivati alla fine di questa scoppiettante giornata direi, spumeggente, Mental Breakdown, l'ultimo della sera, io sono Carlo, che non bevo da 25 minuti, sono carico, qui con me, non è vero, qui con me alla mia destra, giro anti-orario, c'è il buon Caste, Caste, non sei inguarato Caste? Eccomi, ancora vivo, still alive, Bobone, ciao raga, ovviamente significhiamo il microfono da un passaggio all'altro, Andrea, buonasera ragazzi, Mauro, eh sì, Bor, anche conosciuto come Leonardo, buonasera, lo passo al Sircomilla, poi c'è il Torres che so io, bella raga, il maestro, Buonasera, buonasera a tutti Mai stati così numerosi per registrare una puntata del podcast e ci piace così, mai stati così rumorosi, mai stati così stanchi e non siamo ancora sbronzi Qual è il tema che ci ha portato stasera Mirko? Non è cards, non è cards, purtroppo, purtroppo aggiungo Allora hai iniziato, ho detto ora cambiamo le carte in tavola, così subito, sul momento, carpe diem, ma è una disciplina, una professione amata dagli adolescenti agli over 55 Giocata da tutti con passione, nascono lotte, vengono rovinate amicizie, nascono amori e viene vissuta una cosa che è la cosa più bella del mondo dopo la mamma Dipende dai punti di vista Dipende dalla mamma Che è il calcio Il calcio Oggi, stasera, si parla di fantacalcio Dipende dalla mamma, infatti Si parla di fantacalcio, raga Allora, qua abbiamo tre concorrenti dei rispettivi fantagiro, fantacalcio Che sono Mirko, il Torres e il Caste E noi, invece, che non pratichiamo questa arte, questa attività, modereremo la puntata E gli faremo delle domande e diciamo che scaveremo all'interno delle loro aste, le loro formazioni Vai, 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 ci sto, ci sto, vai Quindi, iniziamo subito, molto, molto, molto carichi Mi schierisco la voce perché ho un po' di riaspetto Perché? Cioè, cosa vi affascina così tanto del fantacalcio? Cioè, che cos'è per voi il fantacalcio? E perché lo amate in maniera così spasmodica? Via, via il giro dei risposti Io amo gli sfottò del fantacalcio E la competizione del fantacalcio Poi vai, guardo le partite, quindi Ma perché giocare al fantacalcio è come giocare schedine ogni settimana E giocare schedine comporta il fatto di vedere le partite con più enfasi Perché sei lì e con cui sia ti fai sempre qualcosa o qualcuno E' la cosa che mi appassiona Più oltre il fatto di vincere ogni anno, ovviamente No! Il cast l'affronta così Il pavone Non è un gioco Non è un gioco Cioè, lui entra nel saloon per fare il culo anche al barista, capito? E spara a tutti Quindi, Torres, vai te Che cos'è per te il fantacalcio? E perde 20 euro ogni anno Se me va bene 20 euro Perché dopo se ne so 50 e cazzi Anche lì dipende con chi giochi No, noi facciamo 250 Qualcosina in più Però l'anno scorso abbiamo vinto Noi abbiamo vinti 900 Quindi capito che... Il lupo o chi? E quindi c'è anche la parte economica Sì, ma guarda Allora, la parte economica è fondamentale Perché è quella che Con le multe Te fassi qui comunque anche il fanta Aumenta il sfottò, la voglia di giocare E soprattutto Te fassi attento Perché se te lo fai gratis E poi succede che magari Quello non mette la formazione C'è quello che scazza Quello che lascia verde Ma quindi voi fate quelle multe? Sì, io faccio quelle multe Io faccio due... Faccio... Metto moltiplicatore di due euro Ogni volta che non presentiamo la formazione Bello, bello Mancata formazione 5 euro Un punto di penalizzazione E anche un bacetto alla mamma Sempre sei la mamma Sempre sei la mamma Sta diventata una puntata sulle milfe O me sbaglio? Eh, vada Da setta a McQueen Alle milfe È un attimo È un attimo Quindi terminata questa fase di spiegazione Sul perché effettivamente investite Perché non ho detto sprecate Investite così tanto tempo Nel fanta calcio E sul fanta calcio Adesso vogliamo entrare nel vivo Vogliamo entrare nei vostri spogliatoi L'asta Anzi, aspetta un attimo Come si chiamano le vostre squadre? Lo voglio sapere? I nomi delle squadre I nomi delle squadre prima di tutto Allora, i nomi delle squadre prima di tutto Allora, io Il nome fisso Scritto negli annali della mia squadra Era FC Cocavana Quest'anno però Non è stato scelto da me Perché è in coppia Tanto che mi presento all'asta E chiedo al buon Moro Che saluto Ma la squadra nostra quest'anno Come si chiama? Mi guarda e mi fa Eh, ok Abbiamo già scelto Coizze Vogule Perché da dove nasce Tutto ciò Ma fai? No, niente Coizze Vogule Stavo sentendo Coizze E mi sono mangiato le vongole E mi ha detto Eh, Coizze Vogule Via, basta Chiedi tutto Dal marinero postavi Mi sa Dal marinero Probabilmente Io sono andato Io un audio Chiamala Coizze Vogule Questa è la verità Tu si No, la squadra mia Si chiama Cosenza potrebbe essere Perché Per gli amanti Del club Molto quindi il nome di Mirko Sì, è una puntata Anche un po' di rivoluzione romantica No, ma c'è un motivo profondissimo Gli diamo al nome Perché Intervista di Luciano Spalletti Che salutiamo Ovviamente Ovviamente Con un dissing Con caressa in diretta Art club Per un rigore dato Senza giacca Art club Senza giacca Art club Senza giacca Non vuole parlare Non lo so Quello di D'Ambrosio Quello di D'Ambrosio Porca miseria D'Ambrosio Fiorentina-Inter Si arriva al 95esimo Ricupero scaduto Petto netto Per citare il buon Luciano Dove Caressa Cioè, secondo Luciano Caressa ha fatto Potrebbe essere Che l'ha presa Con la mano E si presenta Luciano Dice No, non la potrebbe aver presa Con il braccio È petto netto Senza potrebbe essere Cosa potrebbe essere? O potrebbe essere niente E quindi c'è lo stemma Che ho trovato sul gruppo Che si chiama Air Club Al quale partecivo attivamente Su Facebook Facebook E si chiama Cosenza potrebbe essere Con la faccia di Luciano Che indica Caressa La tua torre Quella di Mirko Ho già vinto tutto Però io senti quella No, la mia è Come al solito Riccardo Milos FC Come voi sapete Per la tua passione Per la mia passione Per Riccardo Milos Tanto che ho messo Maglie Blu Rosso-blu Non per la Civitanovese Ma per la bandana Di Riccardo Milos E il suo costumino Che mette Più foto di Riccardo Milos Che guarda Cioè, per farti Abbi la fissa di Mauro Per Riccardo Milos È tale Che quando stavamo L'anno scorso In Interrail A Parigi Io, Borre e Sari Apriamo gli occhi Con Mauro Per inzoma praticamente Che con un asciugamano Ci sculacciava E aveva la mia bandana rossa Che è uguale poi È identico È uguale Le solite bandane Che vendono E ho comprato La coreografia di Riccardo Milos Con tanto di canzone Eccellente All'8 di mattina Eccellente E oltre al fatto Che Riccardo Milos È anche il mio nome Su Warzone E su Among Us Quindi sì È una passione Che mi porto dietro Io L'unica cosa Che posso dirti È che il rosso-blu Già comuna Che il cosenza È i colori rosso Assolutamente Quindi Passando alle aste Io prima di chiedervi Delle vostre aste Vorrei una definizione Del concetto Di asta Del fantacalcio In maniera molto poetica Se è possibile Se poi vestemmiamo Sì E poi le pipiamo Basterebbe Ma andai prima te Mirko Ma l'asta del fantacalcio È un po' come quando Entri nella stanza Lo spirito del tempo Che un giorno Sembra un anno E lì Qualche ora Sembra anni e anni Passati nella dirigenza Del Barcellona Scova a talenti Come Come Leo Messi In Argentina Dal bombrida Dal bombrido Il divino Jonathan Esatto Tipo talenti Di sto genere Che tu ogni volta E questo poi Vorrei parlare anche con voi Tu inizi l'asta Con i migliori propositi Finisci l'asta Malissimo Con le pezze al culo E sei comunque Cioè fai un acquisto Dici oddio Ho preso Lautaro Ho preso questo Ho preso Lukaku Ho preso Ronaldo E poi fra finisci l'asta Guardi la squadra E dici Ma che cazzo ho fatto Ma porca troia Per me Mirko È quel classico dirigente La propria squadra del fantacalcio Che c'è un giocatore a 5 E gli non era 20 Il classico Scuola braida Il classico Il Santos Se me ne aveva chiesti 5 Io ne aveva chiesti 5 Io ne avevo chiesti 20 Ti vi dico Jonathan Sì Se posso sbagliare un acquisto Lo sbaglio So Linder De Guzmanovic Il Richie Alvarez Tommaso Rocchi Allora no Seri C'è un acquisto Che me ne pentite Un acquisto Che ho già fatto Ma in Golan Fa poco secco così Ma Io Aspetto un attimo A dirlo Però Luis Alberto E questa è una bomba È una bomba probabilmente Io fra so solo che M'hanno tirato a 3 Diego Dalot E ancora dovevo Ufficializzarlo il Milan Quindi ho fatto l'asta Con un giocatore Che ancora si aveva comprato E me l'hanno tirato a 3 E se no Penso Non lo so Non lo so Ho paura di tipo Una ventura Che Io l'ho preso anche Quindi Però Oltre al fatto Che ho speso 51 Vettelio Hernandez Ma so sicuro Vettelio Hernandez Non mi fa i gol dell'anno scorso Io ragazzi Non ho un top in difesa Io ho preso 3 colonne 3 colonne Romagnoli Smolin Culliboli No io non c'ho centrali Che so da 6 in pezzo Io so Io so il tipo che va Solo terzini Eh lo so Solo terzini A rischio e pericolo A rischio e pericolo Però vado solo terzini Io ho puntato sui centrali Cioè che ti danno garanzie Comunque giocano Ti danno il 6 in mezzo Modificatore C'è un modificatore di difesa Fondamentale Quindi il 6 in mezzo E quindi ho puntato più Su una strategia del genere Non le ho pagati pochissimo Ma nemmeno Un'esagerazione Cioè Teo a 60 È andato via Sull'asta che abbiamo fatto Io Smalling L'ho pagato 26 Che è il difensore Che ho pagato di più Penso sia un buon compromesso Rischio grosso Quest'anno Secondo me È Kuluzeski Sì Forse anche per me Io guarda E ce l'ho in squadra Anzi 65 Ti dico di più Secondo me il rischio più grande Quest'anno è Ciuro Immobile Guarda io Giruzzo Allora io ero indeciso Tra Giruzzo E Duan E alla fine ho scelto Duan Perché Alla fine Vabbè L'Atalanta c'è una media goal Che è devastante Sì assolutamente E tanto che ho fatto Mezzo Atalanta anche in centrocampo Però Effettivamente Ciro ho già iniziato Un po' così così Con il rosso Parto con la topica Subito Vai 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 Allora Se hai un pantacalcio Arrivi con 380 credit E gli attaccanti Non prendi un top Ieri sera è successo Anche da me Ha preso Zapata E Giego Che non sono due top Per me I top per me Sono 3 che sono immobile Lukaku e Ronaldo Il resto è fuffa Secondo me Zapata Non è top Ma sta sotto al top Il top secondo me Sta Lukaku e Ronaldo Basta Neanche immobile Io sono legato a Ciro Perché l'anno scorso Ce l'avevo Insieme a Lupo Insieme a Papu Cioè Vedrai Quest'anno Vedrai che quest'anno Non sarà Non sarà top Nel senso ai livelli loro Però sarà comunque Sia uno che ti fa 18 goal Non è che lo butti via Io ce l'ho avuto anche due anni fa Ne ha fatti 14 E potrebbe essere Una di quelle stagioni Eh però ho capito Comunque un attimo L'anno scorso Quando è che siete arrivati? Io ben ultimo Io l'anno scorso Ho dovuto lasciarlo Perché hanno fatto l'asta Quando stavo a Milano Ah ok Quindi tra una cosa No quindi in grande ritorno Stanno Esatto Quest'anno Aveva appeso il taccuino Al chiodo E l'ha dovuto riprendere Io l'anno scorso L'anno scorso Avevo puntato tutto S'insigne Quindi Ah ottimo Mamma mia No io l'anno scorso Ragazzi ho vinto Coppa e campionato Doblete per me Per questo ovviamente Siamo arrivati a una cifra importante Di vincita Euro Esatto E ancora comunque Tichiamo avanti Con quei soldi Non ho scherzo A fine con la settimana Voglio tirare in mezzo il maestro Eccomi 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 E trenza E trenza Buonasera A proposito Perché dovete sapere che Per tutti noi E' sempre Comunque il maestro Quando c'è Mirko E quando si parla di calcio Il maestro diventa Il trenza Il trenza O è il trenza Chi è il trenza Per chi non lo sapesse Ovviamente Penso che stiamo parlando Con gente Comunque il calcio Lo mastica E beve birra moretti E Il trenza ragazzi È Don Rodrigo Palasio Cioè Arrivato in Italia Dal Geno Passato poi all'Inter Un percorso simile A quello di Diego Alberto Milito Altro principe Il principe Il principe Il principe In una Inter Meno gloriosa Però purtroppo Assolutamente Meno gloriosa Però non siamo tutti Diego Alberto Milito Però siamo anche qualcuno Rodrigo Palasio E ne abbiamo uno In stanza Io voglio sapere dal maestro Quale sarebbe stato Il tuo acquisto folle Allora Il mio acquisto folle L'acquisto folle Lo facevo sicuramente Lo facevo sicuramente In attacco Però Il ruolo che a me Per Proprio per dedizione Quello che interessa Più di tutti È la scelta dei portieri La scelta dei portieri Per chi avresti venduto Tu madre Beh mia madre Forse Anche prima Lo dicevamo Tu madre Forse anche per Gabbia L'avresti venduta Non lo so Lasciamo Lasciamo sto discorso Sennò Diventa complicato Complesso Perché sì magari Perché sì Con i piedi al contrario Però Diciamo che Sicuramente per Lukaku Sicuramente per Lukaku Big Rom Big Rom Io ne faccio due E su uno l'ho preso È stato anche il più pagato Dell'Aster Per me Grande uomo Grande giocatore Big Rom Sì 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 Prima la persona Poi il giocatore Però voglio chiedervi Le vostre scelte Tra i bali Signori Le scelte tra i bali Perché ci ho pronto Un po' di veleno Occhio a quello Che viene fuori Io partirei con Cast E con Mauro Che sono due Ti vengo in difficoltà Mi sto toccando Per tutto Capisco È che Abbiamo Siamo andati Per spendere poco E abbiamo Ripiegato Su un Gollini Pier Gollo Direttamente Dal Manchester United Con il resto di Romero Davanti a sé Potrebbe effettivamente Prendere meno golli Io su una delle due L'ho preso Però su quella In cui investo Meno soldi Perché è quello Cioè Su cui Riesci a risparmiare Un po' di crediti Sì Effettivamente Comunque sia La difesa E quella L'Atalanta Arriva terza In campionato L'Atalanta ce l'ha dato In casa del Torino Ha vinto 5 a 2 5 a 3 Cioè capito Però prendi Guarda del Torino Porco zio Voglio sapere la triade Gollini Ah no Noi facciamo fisso Cioè prendi il primo Terzetti Gollino Pacchetti Andiamo per Piergollo Poi a seguire Che ci abbiamo sul menu? Io allora Ho seguito la strategia Dell'anno scorso E non vado per i top Io ho preso Silvestri del Verona Ho preso Musso dell'Udinese E ho preso Cragno del Cagliari E tieni il titolare? Non c'è un titolare Vado in base al calendario Fondamentale il calendario Tre gran portieri Silvestri Musso Cragno Il Verona tende a prendere Pochi gol Ottima scelta Cragno e Musso Avrei qualcosa da ridire Su Silvestri Silvestri invece quest'anno Già ha preso tipo un gol In due partite La difesa del Verona Diciamo che il classico portiere Secondo me brutto Ma efficace Il più delle volte Brutto Secondo me è un bel ragazzo Poi si è trovato in serie Anche Padelli È un bel ragazzo Signori Anche Padelli Diciamo che Comunque il portiere Partiamo dalla squadra Quindi Esatto Non prendo consigli Del sassuolo Capito Che consigli Ma è più forte Seguendo questo ragionamento Avevo pensato anche a Stracoscia e Reina Stracoscia e Reina Da me sono andati altini Se no È vero È Reina che l'hanno È Reina che ha alzato il tutto Da noi è stato un paio di infamate Su Reina e Buffon Incredibilmente Un paio di infamate Portate a 4-5 Senza motivo Che consiste l'infamato dell'asta? Va Voglio aprire questa parentesi Eh te l'ho detto prima Diego da lotta a 3 C'era bisogno? Cioè prima C'era C'era veramente bisogno Di dire a me Diego da lotta a 3 Comunque Cioè per chi non lo sa L'asta funziona come un'asta Normale Cioè nel senso Tu chiami un giocatore Oppure viene estratto Un giocatore No noi Che ad esempio può essere Appunto Reina Eh Reina è un secondo partiere In teoria Si presuppone che non giochi E allora si presuppone appunto Che lo si possa prendere a uno A un credito Anche perché più che altro A te Potrebbe essere Ma senza potrebbe essere Carissa Aste Aste Perché più che altro Cioè te che non hai il primo portiere Che cazzo ti serve Dire a un portiere Che non ti gioca Che non è il secondo del tuo Cioè a te fondamentalmente Cioè io ho preso Donnarumma Ok A me che mi serve Prendi il secondo dell'Inter Se tanto gioco Donnarumma Capito Mi servirebbe prendi il secondo Donnarumma Così non gioco Donnarumma A me gioca il secondo E questo è racionamento E chi mi tira il secondo Il terzo portiere È un figlio della miniatura E no dopo E lì te lo porti avanti Fino a fine Asta Ma quello Fatti solo inizio Cioè Il portiere sta ancora tutti Cioè si sta ancora tutti sovri 90% delle volte Sì O sovri O quello che sembra Sovri Essere sovri Comunque sia Gli asti Sono ancora Abbastanza Tenuti sotto banco Perché Nascosti All'inizio Lautaro Qualcosa che Aleggia Tipo nell'aria Però comunque sia Parli dei portieri Ancora tutto tranquillo Già Arrivano i difensori Chi ha il primo top Dei difensori Ok Guerra Poi quando arrivi A Papua Chiami Akhimi Teo Hernandez Da noi Di appartire Chi è più forte Akhimi Teo Hernandez Al Fanta Akhimi Ma è partito di più Al Fanta Da noi Quindi Akhimi Meglio Al Fanta De Teo Al Fanta Penso sì Senza potrebbe Senza potrebbe No più che altro Perché Akhimi Gioca a stardo Nel centrocampo Esatto Però Akhimi Col turno verde conto Non gioca ai minuti Che gioca Teo Ah questo è vero Che è lo stesso motivo Per cui Teo Tra un po' Non gliela fare a te Teo non gliela fare Senterista Anche che è intervenuto Ragazzi Teo Hernandez È un giocatore Fuori Dal normale Cioè Io ho visto la partita Con Rio Ave Poi in compagnia Di Carissimi Al mio fianco L'abbiamo visto Ragazzi Ragazzi Teo Hernandez Al centoventesimo Faceva la differenza Tre giorni dopo Ho giocato con lo Spezia E ha segnato E al novantacinquesimo Andava come Al primo minuto Era una cosa illegale Per me E poi volevo solo aggiungere Una cosa Che ci pensavo adesso Sti giorni Che non stavo a casa Che praticamente Il rilano Doveva D'altronde Abbiamo avuto il tempo In giro Abbiamo avuto sempre Se ne ha perso le chiavi Purtroppo È successo questo Ok Il Real Madrid Si poteva trovare Con Teo Hernandez A sinistra E a destra E che squadra Sarebbe stata Cioè Lo zio Lo zio Che si è sbilanciato Che ha detto Che l'Inter È più forte Del Real Madrid Che sono nel senso Ceno di Champions Ho detto Io mi sbilancio Fabio Per me l'Inter È più forte Del Real Madrid Ok Per me no Ovviamente Cioè Real è Real Però ragazzi Quelli ci poteva avere Teo e Hakimi Folia Hakimi 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 E comunque sia C'hanno Carvalle Marcelo Eh però ho capito Sopra a 30 Sopra a 30 Comunque Tornando al discorso Tornando al Fanta Teo ha già lanciato La sfida Hakimi Che ha detto Abbiamoci fatto insieme Lo conosco Non passerà mai Al derby Ok Al se ci sarà un derby Se ci sarà un derby Sem Però comunque Tornando al discorso Del Fanta Io ragazzi Non ho preso nessuno di due Ma avrei detto Teo Hakimi è dato via a 47 Teo è andato via a 60 Me è 51 Quindi Hakimi è 38 Teo 52 Ok adesso Spostandoci via in avanti Perché poi c'è Cosensiate Pure che stanno Allo stesso livello Anzi È partito di Dio E' 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 partito di Dio Io ho preso Io ho preso Zappo Agosto Zappo Agosto Zappo Agosto E poi già ha preso Lo sdrogo Quindi non ne avrebbe più Prende Per tutta la vita E poi pericolo per i prossimi Cinque mesi Dopo quel gol che ha fatto Col Chelsea In Coppa dei Campioni Che giocatore Ha messo un cross De Malleola Che era Piaccicata Sottottenzione Però spostandoci più avanti Esatto I tre top Al centro gabbo E' Allora A me piaceva un sacco Mkhitaryan Sì Però non sono riuscito A prenderlo A quanto è andato via? 58 60 98-60 Kulusevski Infatti lo portavo a casa E Castro Vidi E Castro I tre top Il Papu? Vabbè Il Papu Il Papu Viene inserito nel super top Ho visto su SS Fan Papu Papu è il classico giocatore Che ogni anno 110 è partito da me 110 Quanti Fanta crediti lo fate? Fanta crediti lo fate? Ah 110 Follia 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 Ma l'attaccante? Sì Sì Ah Perché si era ancora rovinito Per il motivo che ho detto prima Cioè per i portieri Si sono tirati Si è messo Michele Così Io ho tirato Lukaku Non volevo prendere Lukaku Lukaku l'ho fatto arrivare a 240 240 E io non lo C'avevo 256 per gli attaccanti Non lo volevo Ma se prendi Lukaku 2,40 Vuol dire che gli altri Sono Andorino Barak Lì e Non lo so No Sì 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 Anche Ronaldo è partito di meno Ma anche tutti gli altri attaccanti Sono partiti a molto di meno Per il semplice fatto che dopo Cioè sarà finito tutti i crediti Cioè io se prendevo Lukaku 2,50 Cioè lo sei crediti Per 5 attaccanti Eh ma noi Lukaku c'è partito a 2,15 Quindi l'ho preso io Ma a 2,15 Ah però c'è andrò Una domanda volevo farvi Cioè io perché ad esempio Tutti i giocatori Dei portieri Difensori Centrocampisti L'ho chiamati a ordine alfabetico Poi gli attaccanti Verano fatte a chiamata E con la chiamata Vi giuro che ci stanno Certe infamate Gente che se guarda Silenzio Tutta chiamata io Dai noi chiamata No 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 Parte che ha vinto l'anno scorso Perché dopo la fine Capito c'è sempre Quello zitto che spetta E così almeno Vede quelli che mancano E si prende uno la fine Eh si tiene il colpo in canna Ah capito No io la fine Nainggolan è la fine A me Boga 1 Boga la fine E portato Boga 1 Perché nessuno Se l'era cagato E pensavamo Che ancora c'era il covid C'erano i covid Quindi 3 top per cast E questi Tu Mauro 3 top a centrocampo Te l'ho detto Luisa Alberto Io considero un top Il Papu Vabbè che va verso per top Lui amolo Sì a Castrovilli Comunque Te lo metterei Anche se dopo io ho virato Per Buonaventura Duncan Io vi faccio un nome Che è Cialanoglu Ah no si giusto Cialanoglu Ho preso Cialanoglu Cialanoglu l'ho preso a 60 E noi 70 Io l'ho preso L'ho preso E vi faccio un secondo nome Che è Kuluseski Che è un po' Scommessa Un po' Il tonno Allora tonno Sull'altro Su uno l'ho preso a 2 Quello in cui investo meno soldi Sì Sull'altro è arrivato a 8 E a 8 Tonno comincia ad essere un po' Un investimento Perché comunque è un mediano Gioca basso Non segna Cialanoglu A gennaio parte secondo me Come parte? Dov'è? C'ho avuto un sacco di problemi Con il rinnovo Cialanoglu Il Milan non gli vuole dei soldi Lui ne vuole estremamente troppi Lo sa che c'è chi ha Lui lo sa che ci prendo Mamma mia Io dichiarai Tonali al Milan Entro 48 ore A un aperitivo con Milano Quando erai vicino all'Inter Quando erai vicino all'Inter E tu mi 48 ore Tonali è del Milan 36 ore Tonali è del Milan C'era un'auro parte C'era un'auro parte Allora è stata Napoli Secondo me Parte a gennaio Nonostante saremo Prima in classifica Io ragazzi Nel senso Io C'è tipo l'Inter Ma amo il calcio Ad ogni livello Ad ogni latitudine Ma come tutti noi Io odio la Juve Però amo il calcio No io no La Juve non è una squadra di calcio No io non odio Neanche la Juve Io apprezzo i giocatori forti Della Juve Quali Paolo Di Bara Che ho acquistato In attacco La Hoja Per dire all'Argentina La Hoja Che è stato sempre Un pupillo Mio a livello calcistico Poi il fantacalcio Sai è sempre Comunque uno Che c'è Ronaldo Quindi i gol Se li fa Ronaldo Però Paolo Lo guardi E rimani Incantato Con tanta classe E' incantato E quindi I tre top Secondo me Centrocampo Rimangono Luis Alberto Ciaranoglu E E Gomez Scontatissimo Gomez Se devo dire un terzo Ti dico Michi Italiano Quest'anno Anche se soffre Di infortuni Ma perché gioca punta Non però Sì ma L'anno scorso C'è avuto La media più alta Sì 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 Giocava pochissimo E segnala tanto Ma E invece La scommessa Il giocatore forte Che è partito a poco A centrocampo dici? Da noi ragazzi C'è stato uno Kulusevski a 40 Io ho preso Chiesa a 35 Però non so se Eriksson a 15 Ho preso Non lo so Ok Da noi È partito Chiesa a 17 17 Ma perché C'eravamo tutti distratti Sai quei momenti in cui Sai La stanza era Era Come sto tavolo No? Tutto chiuso Uno chiama Chiesa 17 1 2 3 Chiesa a 17 E dopo Quando sbatti la terza Da noi Quando 1 2 3 Sbatti 3 Finita Chiusa L'infamata più grossa Anche quando arriva 2 1 2 2 46 Chiama prima no? Cioè Che ti costa? Però Sì Quello è anche il bello Un po' Dell'asta Se ci spostiamo Più avanti Più avanti Io davanti Secondo me Ho fatto il colpo Oltre Lukaku Che è il top Che è ok Cioè Tu quindi hai preso un top Che è Lukaku E hai preso Un secondo Un top Adesso non so se è un top Veramente O se è un top tuo Un top Vai Osiman Osiman 80 Osiman Osiman doveva 100 Per me segna più Mertens Che Cosiman Andato via a 96 Anche perché Se prendi Se prendi Osiman Devi prendere anche Lozano No no Osiman Osiman giocherà sempre Perché sarà un Napoli Osimaniano Quest'anno Titolare Il buon dell'Aventis Esatto Non esiste che Osiman Che stanno Non gioca titolare No gioca L'attacco Che insegna Osiman Mertens Però se devo dire uno Che segna Cioè ragazzi Il Napoli ha vinto 6 a 0 6 a 0 Ha segnato Sì io lo so Anche Mertens Osiman Mertens Quello che vuoi Però è una bestia Però è una bestia Sì può essere Però da me non è andato Di accendo Ma non ho neanche Puntato troppo Perché Mertens Oltre a loro Scommessone In attacco Messias Del crudone Junior Messias Junior Messias Buon mancino Grande talento In realtà c'ha 30 anni Troppo talento Non sarà Però È arrivato Dario Però l'ho visto giocare anche io E non è Non è pessimo Non è pessimo Il trenza dice Una merda Come? Maestro 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 Dica qualcosa Questo è tipo Lusiano Che si è presentato Prima come Rimerto Che sensazioni le dà Queste cose che sta sentendo I giocatori Questo è un po' No no Devo dire Una bella costruzione C'è un bel pensiero Dietro Un bel concept Rispetto a ogni squadra Però adesso Mi hai tirato fuori Sto 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 Brasiliano Del crudone Lì Insomma Insomma Messias Non voglio esagerare Potrebbe averci un mancino Migliore del mio destro Ah E allora Non voglio esagerare Lì cambia tutto Si sta ribaltando la situazione Che era il tuo destro E quelle cose cambiano Che le cose cambiano E poi abbiamo preso anche Simi Eh questa è della boccia Mi dispiace Simi a uno È stato preso E non ce l'avevo per rilanciare a due Io a due ho rilanciato Iago Falca Rap Te saluto Oh rap E a fine l'asta Mi ha detto Prima scambiamola Perché io voglio Iago Falca Che incontreremo domani Esatto E ho preso Iago Falca Il benevento Perché a due Ha detto Ci provo Iago Può essere Può essere Una scommessa azzeccata Come una scommessa È stata per noi Caldirola Ritornando un ottimo difensore Caldirola pure Me l'hanno tirato Ma io non volevi niente Ma Caldirola ha fatto doppietta Sì sì Quanti gol fa Dieci gol Può fa Caldirola In un campionato A otto Ma caldi Ma stavo un errore Ma pensavo di più Ma i suoi A me piaceva Letizia Del benevento Letizia Letizia è andato via a nove A me piaceva Letizia Che è una frase Puramente romantica In realtà Mi piace Letizia È andato via a nove Letizia Tornando Tornando un attimo L'attacco Scusate il piccolo off topic Allora io Ho buttato uno Su Favilli Penso di averlo già detto Ok E uno su Terenza Palasio Terenza Palasio Ok il Palasio l'ho preso Quagliarella A me vengono i priviti Quando sento il Terenza Quagliarella Quagliarella l'ho puntato Rebic A quindici Orsulini a cinque Allora Orso Goal Orso Goal È un ottimo giocatore Ciasco Volsen Sulla destra Col Bologna Che si alterna In questo momento Fa vomità Ma probabilmente Verrà fuori Alla lunga Alla lunga Esatto Se no Punta tutto su Duman Duman Zapata Sì Io attaccantemi Più pagato Lautaro Martinez Detto il Toro 156 Da buon interista Quali sono Affiancato alla cocia Paolo Di Vala Come ho già detto prima 77 A parte che L'anno del Toro È Lautaro Di Vala Ragazzi È Lautaro Di Vala A gennaio Arriva Messi Faccio l'argentino Non so se è chiaro Non so se è chiaro Sogno serio Poi gli altri Non li dico Perché un po' Mi vergogna Io sono partito Messias Domanda Lampo Interrompo E chiudiamo La comunicazione Nessuno ha puntato Sul bomber d'assalto Il Panzer Galabinov Puntato Galabinov Noi pure Partito troppo Non c'avevo più i gradi C'avevo i gradi Solo per Ragazzi Ci ho capito A me 161 È partito 130 150 Posso farvi una domanda Adesso che Riprendiamo un attimo C'è Il giocatore Che magari Non vi porterà Bonus al Fanta Ma che voi Romanticamente Lo andate a prendere Perché siete innamorati Con il giocatore Io stanno Non l'ho preso Però ce l'ho Allora Io ti dico Uno di questi giocatori No Non uno di questi Il giocatore Per eccellenza Che io prendevo E che ho preso La Raja Zaic Mia Zaic Quest'anno però Ragazzi L'hanno alzato a 11 A 11 E non l'hai preso A 11 Era a 2 Poi ho preso Zagnolo a 1 Zagnolo a 1 Dove sono riuscito A prendere Lukaku Però No Io ragazzi Ho preso Eriksen Da buon interista Eriksen Che è criticato Non c'è ora spazio Lo zio dice Lo zio Beppe Bergamo Non è quel giocatore lì Non è il giocatore di Conte Io posso essere anche d'accordo Ma Eriksen È un giocatore D'altri tempi Un 10 Io lo amo Come direbbe mio padre Un Gianni Rivera Cioè io sono innamorato Di quei giocatori lì Che vanno vicino la palla La toccano tante volte Testa alta Testa alta Cioè Gioca un tocco Magari anche a zero Cioè Follia È vero C'è un giocatore Solo veli Solo veli Ma il gol che aveva fatto l'Inter Non ricordo bene Con chi Che ha segnato Lukaku Un'azione magistrale Con Lautaro Eriksen L'anno scorso Fine campionato Cioè S'estate Porco zio ragazzi Io sono innamorato Di quella roba lì Poi Eriksen Magari ciò che 10 minuti E dice No io va via Però Ho preso questa energia Ha già fatto un'intervista Esatto Ha detto che Se devo stare a scaldare Il panchino Il prossimo colpo dell'Inter È Gattuso Papamo Gattuso Kanté Vidal Poi prendiamo un trattore Lo mettiamo a centrocampo Un Landini Spontiamo i palloni Avanti e dietro Per esempio Un'ultima provocazione Vidal Vidal è la mente A 35 Chi Segue le partite Chi ha visto le partite Dell'Inter Quando ha giocato Vidal Vidal ha giocato Davanti alla difesa Perché noi Abbiamo Brozovic Fuori dal progetto Ok E Brozovic Parte dalla pagina Perché è fuori Lo volevano mandare via Non sono riusciti a venderlo E quindi Che non c'è più la patente Continuerei a invitare Anche perché Vado a piano sentire Con il motorino 14 per andare Anche perché Anche perché Brozovic era In Golan e Vidal Cominciasse impegnativi Tutti e tre insieme Mettene lì a casa Mamma mia Perisic Più Perisic Più Perisic E comunque È il classico Che uno si buttare sotto Si buttare sotto Pure lui È Parise Che sia quel tipo De persone Più che dei giocatori E quindi Vidal Per me è 35 È follia Perché non so Più Sensi Che Vidal A 35 Ma Sensi è andato via Una ventina A me io Innamorato Stefano Sensi Innamorato Io Stefano Sensi Altro giocatore Che è alto 1 metro e 50 E qualcosa Ragazzi gioca In serie Io ho avuto Un problema Quest'anno Che ci ho capito Niente Nella prima partita Nella Juve Non sono riuscito A prendere Le decisioni Ci ho capito Niente Per me La cazzata più grossa Era McKennie C'è gente che ha preso McKennie Che è giallo fisso E non segnerà mai Io ho preso Kulusevski Perché l'ho visto L'anno scorso Che era forte E basta Sono la fiducia C'è Borra Che da Juventino Si sta Di qualcosa Su McKennie Come fai a prendere McKennie Con tutto il rispetto Però Non lo so Non l'ho mai preso Per me Non l'ho mai preso Io ragazzi Adesso Ci aggiungo questa postilla E poi domani Avrete anche il rap Ospite L'ha preso il rap E l'ha preso a due Tant'è che oggi Abbiamo chiamato Per fare un summit Sull'asta di ieri Ma Io ho detto Fra Io C'è senso la squadra tua Alla fine la capisco Perché lui ha preso Mighi Teran Luis Alberto E Gomez Ha speso tutto al centrocampo E davanti c'è solo Pelotti E ho detto Io la posso capire La statua Ma perché hai preso McKennie Perché hai rilanciato McKennie a due La risposta sua è stata Testuale parole Mermasto sulle ma Vuol dire Significa che Nessuno ha rialzato Ragazzi Questo è un tema Fondamentale Nell'astrofantacaccio Questo è fondamentale I giocatori Che ti rimane sulle ma Eh Probabilmente lì È quando ti crolla addosso Che poi fai tipo Cioè annuisci con la testa E scrivi sul foglio No no Tipo Piaomaro si c'ha tre Piaomaro si c'ha tre Beh bo Piaomaro Ah tre Chiuso Chiuso Segno Io ho fatto lo stesso Aspetto con Ansaldi Quando poi dopo Realizzavo che non gioca Perché c'è Riccardo Milo Oste Rodriguez Perché non da lì Ho fatto Esatto Ansaldi Allora scrivo Scrivo Otto Allora scrivo Ansaldi uno Ansaldi due Scrivo La mia esperienza Di quest'anno Invece racconta Che nell'altro Fondacalcio Quello che faccio In coppia con Rap Abbiamo preso C'è successo due volte Nella stessa asta E nello stesso reparto Cioè i difensori C'è successo con Superbike Che è Cristian Maggio Del benevento Cristian Maggio a me mi piace Ragazzi Io lo apprezzo tantissimo Poi la prima partita Mi ha presentato Rispoli Piuttosto che Superbike Che mi sono fatto due domande Sono andato a vedere L'età C'è 38 anni Ho detto Quante partite fa Superbike L'ho visto con l'Inter Ho detto Meno male Che l'ho svingolato A fine asta Perché poi a fine asta Si poteva svingolare E questo Superbike A tre Che mi è rimasto lì Con il rapper Se mi guardate Se mi ho detto Wow Il secondo Ancora peggio Che è Armando Izzo Armando Izzo Quest'anno giocherà Probabilmente La bellezza Da cinquantina minuti Con il maestro di calcio Esatto Con il maestro Ha fatto una rossa stagione E quindi la gente Lo tende a prenderlo E noi ragazzi Con il rapper Stavamo lì A scrivere ancora Superbike Sul foglio Che avevamo appena preso Maggio a tre Se andiamo Izzo Uno, due, tre Sale l'asta Noi sette Vostro Ma come vostro Tieniamo solo la testa Come vostro Il rapper Guarda Che cazzo Sono sbagliato E poi segnavo Buona Izzo Fra sette Ho fatto l'affare Izzo è buono Gioca sempre Non ho fatto un minuto Comunque Un attimo Ricapitolando I portafortuna Le mascotte Tu hai detto Io ho detto Io quest'anno Eriksen Però non ce l'ho Vero magari te Io Stanno non l'ho preso Perché Dopo racconto Però per me È Cristian Zapata Ragazzi Cristian Zapata Del cuore Ogni anno C'è il doppio Zapata Esatto Però Stanno Stanno non l'ho preso Perché ho chiamato Mujica uno Perché aveva già ridere il nome E quindi Mi è rimasto solo Ma appunto Ho chiamato uno Mujica Non ti farà ridere solo il nome Ma ti farà sorridere Quest'anno Speriamo Bel giocatore Io posso presentare Difesa 3 Mujica Mujica Voivoda E Izzo Speriamo non succederà mai Perché Cioè Giocheranno mai Esatto Per quello Per quello Bene Allora Andiamo Per la chiusura Esatto Proiezioni 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 Quest'anno Finché non rientra Zanjolo A me Vale Io Strascinati a Lukaku Sull'onda lunga Sull'onda lunga Non per essere scaramatici Però Conoscendo le altre squadre Del vostro fantacalcio Seriamente Siete 8 Siamo 8 Bene Quanto rivelessi Io penso che Eh ti dico Per gennaio Metà classifica Quarto o terzo A gennaio Se riusciamo a fare I ritocchi Ingiusti Quanti credit Rimasti Per l'astra di perciò 2 No 12 12 Buono 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 Io ne ho fatto 1 a 8 1 a 10 Quella 8 Quello in cui investo Di meno Assolutamente Fuori premio Quindi arriverò Tipo 7 Su 8 Posti E Sull'altro Che invece siamo 10 Che ho fatto L'asta ieri Sono più fiducioso E appunto Dico un terzo posto Rimane Volando Pass Io Metà classifica Perché comunque Non c'ho un attacco Che mi fa un pazzì Io l'unica cosa Devo sperare a Quagliarella Che mi fa 30 cose Quindi ragazzi Io devo sperare Nel miracolo Scherzo Sono Gedevan Io quest'anno vinto Io vinto l'anno scorso Sto a posto quest'anno Comunque tirando le somme C'è senso adesso Tirando le somme Di quello che abbiamo detto Finora Abbiamo fatto consigli Questo è forte Quella è scarse E poi nessuno ha detto Quest'anno Esatto Quindi abbiamo parlato Però abbiamo fatto Tutto quello che abbiamo detto Vi fate il contrario Comunque Se siete arrivati fino a qua Vuol dire che anche voi Avete avuto i vostri problemi Con il Fanta Calcio E giocate al Fanta Calcio Altrimenti ci avresti salutato All'intro Esatto Di questa puntata E io tra parentesi È due anni che faccio il Fanta Prima l'ultima volta che l'ho fatto Avevo comprato Vidic Dell'Inter Vidic Ho lasciato verde E metto la formazione Dopo quattro giornate Vidic Vidic Che pianto Che tempi Forlano Vidic Chiediamo Chiediamo Ragazzi ormai è mezzanotte e dieci E Questa è l'ultima In assoluto Di oggi Direi E quindi niente Un grazie a chi ha partecipato A tutti quelli che erano qui Al maestro A Carlo A Bobone A Borra A Andre I consigli di Bobone Ne farò tesoro Secondo me Che mi faranno vincere L'anno prossimo Cercheremo di organizzare Un Fanta My Caroline Speriamo che ce lo venga facile Non sai con chi stai a giocare Non lo sai proprio Occhio Tu non lo sai chi sono io Esatto Siamo le personalità più scorrette Nel gioco del fantacalcio Ah se Ci gioca solo uno di noi Per adesso Quindi pensa Quello che possiamo diventare Raga Grazie A tutti Buonanotte Abbiamo bisogno di dormire Ciao a tutti ragazzi Ciao raga Ciao raga Vi saluto da set